Tutto è possibile Perfino credere Bella vista da qui Bene, sono venuto perché vorrei parlarvi di un qualcosa che conoscete bene Casa E per farlo vorrei raccontarvi tre storie Tre storie di ritorni a casa La prima storia è relativa al lavoro che faccio Come ha detto Davide è questo Il capo stazione Questa storia Me la raccontarono i primi giorni che sono arrivato in ferrovia Ed è la storia del più grande errore commesso da un capo stazione nella storia della ferrovia Ed era il 1992 A Ciampino Una sera d'inverno di gennaio Il capo stazione Mandò un treno verso Velletri Quando l'incrociante non era ancora arrivato Non ci vuole tanto a capire che Su una linea con un unico binario Due treni in senso opposto non ci stanno E quella sera il manovale si accorse dell'errore Cercarono di fermare il treno Chiamarono i casellanti Chiamarono i cantonieri Cercarono addirittura di togliere la corrente dalla linea Ma non riuscirono ad evitare il disastro E quello che mi colpisce di questa storia È che avuta notizia dell'incidente Il capo stazione Firma le consegne Mette il cappotto E poi fugge Vaga per ore nella notte Prima di trovare il coraggio di chiamare il sindaco Del paese che era un suo amico Confidarsi con lui E poi costituirsi i carabinieri Quello che mi colpisce di questa storia È che non torno a casa E in tutti questi anni Più di 20 Di questo mestiere Spesso cerco di mettermi la sua giacca Di pensare di commettere lo stesso errore E di pensare se io Tornerai a casa E la risposta che mi do Non è sempre la stessa E qualche volta purtroppo È che anch'io Non avrei il coraggio di tornare a casa Perché la cultura Oggi Non ammette errori Perché la cultura oggi Giudica Colpevolizza E invece tornare a casa È rispondere a un errore Con la comprensione Con l'accettazione E per una storia Che Mi mette questo dubbio addosso Ce n'è un'altra Che è avvenuta Qualche anno dopo Dove invece Ero assolutamente convinto Di quello che volevo fare Perché io ho fatto Il servizio militare In una piccola caserma Di campagna Lungo le rive Del fiume Adda E una notte Poco prima del congedo Sarà mancato un mese Al congedo Ero fuori di pattuglia Con il maresciallo Con il comandante E scorgemmo Che un edificio comunale Aveva la porta semiaperta Erano le tre e mezza Le quattro del mattino Il maresciallo scese E io anche Presi la mitraglietta L'M12 Che stava sotto il sedile La impugno e scendo Ma anche abbastanza tranquillo Il fatto sta Che il maresciallo Mette dentro la testa Nell'edificio comunale Poi fa un passo indietro Tira fuori la beretta 92 Carica Si gira e mi dice Metti il colpo in canna In quel momento L'M12 è diventato gelido Le gambe erano pietrificate E io ero bloccato Fermo Si gira Mi guarda E io L'unica cosa che Sono riuscito a riconoscere È stato quello sguardo Che ormai avevo imparato a capire Perché Erano mesi di collaborazione Voleva dire Forza Ho fiducia in te Condividiamo lo stesso destino Allora Con la mano destra Sono andato lungo la canna A cercare i selettori Trovato quello che Da colpo singolo A raffica Pensato Che faccia Ho messo su raffica Poi tolto la sicura E ho armato Anch'io Colpo in canna Alla mitraglietta Quando ho sentito il rumore Dal mio caricatore Il maresciallo Ha tolto la torcia Che aveva Dalla cintura L'ha accesa E ha iniziato A illuminare dentro Nell'edificio comunale E io Strisciavo dietro di lui E quello che era incredibile È che io non vedevo I mobili Io ogni volta che lui Illuminava qualcosa Vedevo sua moglie I suoi figli Che nel frattempo Avevo conosciuto E pensavo Voglio tornare a casa Dobbiamo tornare a casa Tutti e due A un certo punto La luce si faceva Sempre più Stretta Perché lui probabilmente Stava andando Verso una porta Fino a quando A un certo punto Si è accesa Una luce Io con l'M12 in mano Guardavo che cosa Poteva essere successo Non vedevo il maresciallo Perché nel frattempo Era sparito Dalla mia visuale Ma ho sentito la sua voce Mi ha detto Pulito Torniamo a casa E in quel momento È stato incredibile Perché è lì Che ho capito Che tornare a casa È un sentimento condiviso E questa storia L'avevo quasi Dimenticata Se non che Negli ultimi giorni Anche pochi giorni fa Era la Virgo Fidelis Ma soprattutto Perché Poco tempo fa Ero a Sotto il Monte Provincia di Bergamo Non lontano da casa mia Paese natale Di Papa Giovanni XXIII E nel giardino Della Basilica Di Sotto il Monte C'è questa stele Che ricorda Papa Giovanni XXIII E ricorda L'inizio Del famosissimo Discorso alla Luna Che iniziava proprio così Tornando a casa Troverete i bambini Date loro una carezza E dite Questa è la carezza del Papa E mentre io stavo Pregando Davanti a questa immagine Dietro di me C'era mia mamma Che aveva appena Finito di accendere Un cero Mi si avvicina E mi dice Noi l'abbiamo presa La carezza del Papa Ce l'ha data il nonno Una sera che Tornava dal lavoro Si è fermato in piazza Dove C'era una televisione Ha sentito il messaggio Del Papa E poi quando è tornato Ha dato una carezza A me e alle zie E da quel momento Il ritorno a casa Dal lavoro del nonno Non è più stato lo stesso Né per lui Né per noi Allora lì ho pensato Che tornare a casa È un messaggio di festa Tutti i giorni Allora tornare a casa È tutto questo Tornare a casa È comprensione Comprensione non Nel senso razionale Del capire Ma comprensione Nel senso di entrare In empatia Con i sentimenti Delle persone Entrare nella loro umanità La comprensione È l'inizio del perdono Senza comprensione Chi sbaglia Non troverà mai Il coraggio di raccontare Comprensione È un fatto di cultura In una cultura Che vuole reagire A un errore Per apprendere Deve iniziare Deve iniziare dalla comprensione Ma comprensione è anche Condivisione Perché la vita Ci mette davanti A dei momenti In cui ti rendi conto Che in un attimo Puoi perdere tutto E in quell'attimo Capisci che quello Che hai di veramente Caro al mondo È lo stesso Anche per il tuo vicino È lo stesso Anche per il tuo amico È lo stesso per tutti È un sentimento condiviso Ma tornare a casa È anche comunicazione Stare in ascolto Andare a captare Quello che c'è di nuovo E quando c'è un messaggio Che vale la pena Di raccontare Di diffondere Di far proprio Prenderlo E portare La buona novella Diventare ambasciatori Diventare ambassador Comprensione Condivisione Comunicazione Questa è l'idea Nuova Mia Della sicurezza Anche se però In questa idea Manca ancora un punto Manca ancora un tassello Forse c'è un altro Co Oltre queste tre Che vale la pena Di inserire Che è costruire Perché costruire Perché tornare a casa Per tornare a casa Una casa Bisogna prima Averla costruita Perché un'idea Della sicurezza Può essere Sì emotiva Può essere Sì coinvolgente Ma non può mancare La parte tecnica La parte concreta Quindi costruire Perché costruire Vuol dire Passare dal pensiero All'azione Costruire E fare Costruire E agire Perché costruire Vuol dire Lasciare un segno Vuol dire Lasciare un'eredità Vuol dire Che tu puoi guardare Tuo figlio E poi dirgli Guarda Questo l'ha fatto papà E se l'ha fatto L'ha fatto anche per te Costruire Un mondo Costruire Un mondo Dove le persone Possano andare al lavoro E sentirsi sicure E protette Protette dai loro leader Costruire un mondo Dove vivere E lavorare Significano salute E sicurezza Dove amore Per la sicurezza E amore Per la vita Questa è Un'idea La mia idea Di sicurezza E sarà forse Per il lavoro Che faccio In stazione C'è chi arriva E chi parte Ma in molti Tornano a casa E tornare a casa È un'emozione Sempre nuova È un'emozione Che spero Che potremmo Provare insieme Perché Basta un momento Per creare un momento E allora Mi piacerebbe Che Come ho raccontato Di Papa Giovanni XXIII Anche noi stasera Tornassimo a casa E la rendessimo Un'emozione nuova Magari portiamo a casa Una carezza E diciamo ai nostri cari Che questa è la carezza Di Italia Love Sicurezza